alessio alessio una gara dicciolo tu che gara è stata un weekend un po abbastanza bene dal pre finale che poi salita dato una manche scolificato sotto la pioggia e che manche e si è stato molto bello oggi sono riuscito in pre finale molto bene in finale ho messo giù a testo vinto cosa pensavi in quei giri prima della vittoria eri da solo pensavi a sentire il motore quali erano le tue sensazioni no pensavo soltanto a fare un curva per curva meglio non mi sono girato indietro per 19-18 giri e pensavo veramente per gli altri a un giro metri da me e tirare come se fosse l'ultima gara e quindi ho dato sempre massimo mi sono girato all'ultimo giro e ho visto che non c'era erano quegli secondi insomma sta kf ti piace si mi piace pesa di più i giri sono più lunghi il motore va e nel senso qual è il testo settimana prossima bisogna rimanere calmi e pensare a settimana prossima che non è finito la stagione inizia appena iniziata e speriamo di continuare così ma sappiamo che è davvero difficile continuare così e ci proveremo sempre gara e poi gara grazie a tutti grazie a tutti